Siamo oggi in un paese da pieto sull'entreremo una gaccia mossa che si è fatta qui, a nontarvi anche di un monte Gozi stamattina a buon'ora, sull'entreremo la pietinca e una parte di Azovamia che giungono anche dei paesi all'intorno a nontarci l'occhio qui. Un, due, tre, tre... E io, 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 io... Abbiamo fatto la battuta e le abbiamo investigato. Tutti i posti sono qui. Molintati agri qui hanno accettato a farci tirare qui, qui. Ci sono i posti anche qui da rite e qui da sotto. Ma normalmente ci sono i cignani. Qui si chiama battuta di piani. Qui si chiama battuta di piani. Qui si chiama battuta. Si è così. Irrigeramente. L'ultimo posto è sopra di piani. Mi piace tanto andare in posto. Sono andato l'anno e l'anno. E poi mi piace la marcia. E poi mi piace il iagra. E poi mi piace molto. E poi sono tutti in su, qui. E poi non so se ne sa mai. E poi mi piace molto. E poi mi piace molto. E poi mi piace molto. I vostri, tutti in due cimetani. Qui in della Maggione è fresca. Fuori di luoghi d'umidità, è uguale, in due cipollosi signori, i gacciatori che lentano gli agari si ritornano a mezza battuta. Dopo stamattina non sono... non sono ancora con piedi di cuore, non faccio mica correre, dopo stamattina. Sono affacato in diposta, hanno tirato ma... Papà, hanno tirato un cavallo. L'ho detto in tesa. Si sono appena ragionati, non si sono messo in un luogo, un rivedo, chi ne è? Si sono messo in un rivedo due stondi di vetro, c'è guanda, ma sono stato una veda stonda. Non avete mica tirato? No, no, io no. Prefiero che fatti guandando i posti e tu pensi che ti ha paura di tirare, ma non ho mica paura di tirare. No, piuttosto che fatti guandando i posti. non ho mai paura di tirare. Questa volta la Pietinca non trova quattro signali. Tre sono paumere che si rallegra di mantenere una tradizione paesana e familiare. È un'equipe anziana, è un'equipe che... la mia famiglia l'ho creata fa circa 70 anni e l'80% è la famiglia, cucina, cucina carnali, fratelli, tutta la famiglia. e amiche. È importante perché ci sentimo bene e ci faccio piacere ritrovarsi, soprattutto una famiglia qua. Abbiamo già la partita. Ho l'altro, faccio 40 anni che divenne, non c'è mica stordi e abbiamo paumosacci. E beh, quando ne trobiamo uno siamo contenti e se non ne trobiamo mica abbiamo spunti noi stessi. e non c'è nessuno.